Munizioni scarse! Grosso calibro! Mi servono colpi per lanciatore! Medio calibro! Mi servono cartucce! Piccolo calibro! Munizioni scarse! Ricarico! Occhio a dove spari! Mi attaccano! Mi sparano! Mi hanno colpito! Sei nel mirino di un cecchino! Bombardiere eliminato! Indietro! Drone abbattuto! Cannoniera abbattuta! Elicatero abbattuto! Bersaglio a terra! Due a terra! Sei uccisi! Quattro andati! Juggernaut a terra! UAV di disturbo abbattuto! Torretta andata! Torretta scudo andata! Cecchino a terra! Anche l'ultimo è andato! Squadra eliminata! Carro distrutto! UAV abbattuto! Mezzo pesante distrutto! Veicolo nemico distrutto! Vitor abbattuto! Wilson distrutto! Mi curo! Piazzo una mina! Uso una Claymore! Uso un'esca! Lancio una EMP! Piazzo una carica! Flashbang lanciata! Maschere antigas! Granata partita! Molotov lanciata! Prendi questo! Andiamo! Uso una tuta antiradiazioni! Razza partito! Fumogeno lanciato! Uso una stimolante! Lancio una stordente! Gas lacrimogeno lanciato! Termite lanciata! Drone EMP in volo! Ricognizione! Di nuovo in perfetta salute! Ecco! Prendete il potere d'arresto! Segnale di inserimento posizionato! Sistema Trophy in uso! C4! EMP! Flashbang! Gas! Gas! Attenzione! Granata! Molotov! Ricognizione nemica! RPG! Samtex! Stordente! Termite! Qui ho trovato qualcosa! Dispositivo disinnescato! Dispositivo in posizione! Dispositivo piazzato! Piazzo il dispositivo! Obiettivo in sicurezza! Ci sono! Obiettivo al sicuro! 10 secondi! 30 secondi! 60 secondi! Siamo nella zona sicura! Occhio ai nemici! Manca ancora qualcuno! Adunata nella zona sicura! Alla zona sicura! C'è molta strada da fare! In marcia! Stazione medica! Qui! Raggiungiamo quella stazione medica! Ambulanza! Qui! Equipaggiamento letale! Qui! Equipaggiamento tattico! Qui! Grosso calibro! Qui! Colpi per lanciatore! Qui! Medio calibro! Qui! Colpi per fucile a canna liscia! Qui! Piccolo calibro! Qui! Accessorio! Qui! Mirini! Qui! Lato est! Lato est! In alto! In alto! Livello 1! Livello 2! Livello 3! Livello 4! Livello 5! Laggiù! Laggiù! Nord! Nord! Nord est! Nord est! Nord ovest! Nord ovest! Sud! Sud! Sud est! Sud ovest! Sud ovest! Sud ovest! Lato a ovest! Quello è mio! Ingaggio! Bombardiere! Nemici nell'area! Nemici nell'area! Ottima uccisione! Contatto! Contatto! Contatti multipli! Contatti multipli! RPG avvistato! Cecchino! Contatto! Sono tre! Trappole nemiche qui! Contatto! Sono due! Blindato pesante nemico! Blindato pesante nemico! Veicolo nemico! EMP giù! Il nemico ha il potere d'arresto! Segnale di inserimento nemico! Lancio aereo in arrivo! Approvvigionamento avvistato! Cannoniera nemica! Elicottero nemico! Juggernaut! Ricognitore nemico in volo! Ricognitore nemico in volo! UAV di disturbo! UAV di disturbo! Torretta nemica! Torretta nemica! Torretta scudo nemica! Torretta scudo nemica! Torretta scudo qui! Torretta scudo qui! Carro nemico! Carro nemico! Vito al nemico! Vito al nemico! Wilson nemico! Wilson nemico! Sono con te! Sono con te! In movimento! Ecco la nostra zona di lancio! Pronti! Dovremo lanciarci lì! Qualcuno è passato di qua! È meglio raggrupparsi! Mi serve una corazza! Mi serve un'arma! Mi serve un casco! Mi servono colpi di grosso calibro! Mi servono colpi per lanciatore! Mi servono medicinali! Mi servono colpi di medio calibro! Mi servono cartucce! Mi servono colpi di piccolo calibro! Dispositivo avvistato! Dispositivo avvistato! Corazza! Qui! Serve a qualcuno! Medicinali! Qui! Scudo antisommossa! Qui! Una banca! Qui si può depositare! Approvvigionamento! Contiene denaro! Qui ci sono soldi! Qui c'è un venditore se serve! Affermativo! Affermativo! Ignorate quello che ho detto! Confermato! Confermato! Medico! Lasciami qui! Va avanti! Ti aiuto io! Grazie! Fuori tutti! Fuori tutti! Serve qualcuno alla guida! Serve qualcuno alla guida! Ci serve un pilota! Ci serve un pilota! Guido io! Guido io! Io prendo la calibro 50! Io prendo la calibro 50! Blindato pesante! Qui! Elicottero! Qui! Veicolo leggero! Qui! Mi serve un passaggio! Sarò io il pilota! Sarò io il pilota! Faccio il passeggero! Faccio il passeggero! Fucile d'assalto! Qui! Arma personalizzata! Qui! Fucile tattico! Qui! C'è un lanciatore! Qui! Mitragliatrice leggera! Qui! Coltello tattico! Qui! Qui c'è una pistola! Fucile a canna liscia! Qui! Mitraglietta! Qui! Fucile di precisione! Qui! Ci sono! Ha bisogno di cure mediche! Alleato ucciso! Annullare i soccorsi! Restiamo noi due! Andiamo! Carico il defibrillatore! Copritemi! Ci penso io! Trovate una stazione medica! Sono con te! In discesa! Aria pronta per i rinforzi! Sono a terra! Medico! Qui! Sono a terra! Rieccomi in campo! Ci sono! Vai! Munizioni scarse! Grasso calibro! Mi servono colpi per lanciatore! Medio calibro! Mi servono cartucce! Piccolo calibro! Ricarico! Occhio a dove spari! Mi attaccano! Mi sparano! Mi hanno colpito! Bombardiera eliminato! Indietro! Drone abbattuto! Cannoniera abbattuta! Elicottero abbattuto! Versaglio a terra! Due a terra! Sei uccisi! Quattro andati! Juggernaut a terra! UAV di disturbo abbattuto! Torretta andata! Torretta scudo andata! Cecchino a terra! Anche l'ultimo è andato! Squadra eliminata! Carro distrutto! UAV abbattuto! Mezzo pesante distrutto! Veicolo nemico distrutto! Vito l'abbattuto! Wilson distrutto! Ricevuto! Ci pensiamo noi! Ricevuto capo! Ti ascoltiamo! Ricevuto! Passo e chiudo! Mi curo! Piazza una mina! Usa una Claymore! Usa un'esca! Lancia una EMP! Piazza una carica! Flashbang lanciata! Maschere antigas! Granata partita! Molotov lanciata! Prendi questo! Andiamo! Usa una tuta antiradiazioni! Razza partito! Fumogeno lanciato! Uso una stimolante! Lancia una stordente! Gas lacrimogeno lanciato! Termite lanciata! Divento un'ombra! Drone EMP in volo! Ricognizione! Di nuovo in perfetta salute! Ecco! Prendete il potere d'arresto! Segnale di inserimento posizionato! Sistema trofi in uso! C4! EMP! Flashbang! Gas! Gas! Attenzione! Granata! Molotov! Ricognizione nemica! RPG! Centex! Stordente! Termite! Verifica del codice! Via al lancio! Bersaglio indicato! Procedere! Serve supporto aereo! Juggernaut operativo! Richiedo ricognizione aerea! Lanciare UAV di disturbo! Torretta schierata! Torretta scudo schierata! Wilson in campo! Qui ho trovato qualcosa! Dispositivo disinnescato! Dispositivo in posizione! Dispositivo piazzato! Piazzo il dispositivo! Obiettivo in sicurezza! Ci sono! Obiettivo al sicuro! 10 secondi! 30 secondi! 60 secondi! Siamo nella zona sicura! Occhio ai nemici! Manca ancora qualcuno! Adunata nella zona sicura! Alla zona sicura! C'è molta strada da fare! In marcia! Stazione medica! Qui! Raggiungiamo quella stazione medica! Ambulanza! Qui! Equipaggiamento letale! Qui! Equipaggiamento tattico! Qui! Grosso calibro! Qui! Colpi per lanciatore! Qui! Medio calibro! Qui! Colpi per fucile a canna liscia! Qui! Piccolo calibro! Qui! Accessorio! Qui! Mirini! Qui! Lato est! In alto! Livello 1, livello 2, livello 3, livello 4, livello 5! Laggiù! Nord! Nord est! Nord ovest! Sud! Sud est! Sud ovest! Lato ovest! Quello è mio! Ingaggio! Bombardiere! Nemici nell'area! Ottima uccisione! Contatto! Contatti multipli! RPG avvistato! Cecchino! Contatto! Sono tre! Trappo le nemiche qui! Contatto! Sono due! Blindato pesante nemico! Veicolo nemico! EMP! Giù! Il nemico ha il potere d'arresto! Segnale di inserimento nemico! Lancio aereo in arrivo! Approvvigionamento avvistato! Cannoniera nemica! Elicottero nemico! Giuggernaut! Ricognitore nemico in volo! UAV di disturbo! Torretta nemica! Torretta scudo nemica! Torretta scudo qui! Carro nemico! Vito al nemico! Wilson nemico! Sono con te! In movimento! Ecco la nostra zona di lancio! Pronti! Dovremo lanciarci lì! Qualcuno è passato di qua! È meglio raggrupparsi! Mi serve una corazza! Mi serve un'arma! Mi serve un casco! Mi servono colpi di grosso calibro! Mi servono colpi per lanciatore! Mi servono medicinali! Mi servono colpi di medio calibro! Mi servono cartucce! Mi servono colpi di piccolo calibro! Dispositivo avvistato! Corazza! Qui! Serve a qualcuno! Medicinali! Qui! Scudo antisommossa! Qui! Una banca! Qui si può depositare! Approvvigionamento! Contiene denaro! Qui ci sono soldi! Qui c'è un venditore se serve! Affermativo! Ignorate quello che ho detto! Confermato! Medico! Lasciami qui! Va avanti! Ti aiuto io! Grazie! Fuori tutti! Serve qualcuno alla guida! Ci serve un pilota! Guido io! Io prendo la calibro 50! Blindato pesante! Qui! Elicottero! Qui! Veicolo leggero! Qui! Mi serve un passaggio! Sarò io il pilota! Faccio il passeggero! Fucile d'assalto! Qui! Arma personalizzata! Qui! Fucile tattico! Qui! C'è un lanciatore! Qui! Mitragliatrice leggera! Qui! Coltello tattico! Qui! Qui c'è una pistola! Fucile a canna liscia! Qui! Mitraglietta! Qui! Fucile di precisione! Qui! Ci sono! Ha bisogno di cure mediche! Alleato ucciso! Annullare i soccorsi! Restiamo noi due! Andiamo! Carico il defibrillatore! Copritemi! Ci penso io! Trovate una stazione medica! In discesa! Aria pronta per i rinforzi! Ho già di meglio! Non ho spazio! Sono a terra! Medico! Qui! Sono a terra! Rieccomi in campo! Ci sono! Vai! Munizioni scarse! Grosso calibro! Mi servono colpi per lanciatore! Medio calibro! Mi servono cartucce! Piccolo calibro! Munizioni scarse! Ricarico! Occhio dove spari! Mi attaccano! Mi sparano! Mi hanno colpito! Sei nel mirino di un cecchino! Bombardiere eliminato! Indietro! Drone distrutto! Cannoniera abbattuta! Elicottero abbattuto! Bersaglio a terra! Due a terra! Sei uccisi! Quattro andati! Juggernaut a terra! UAV di disturbo abbattuto! Torretta andata! Torretta scudo andata! Cecchino a terra! Anche l'ultimo è andato! Squadra eliminata! Carro distrutto! UAV abbattuto! Mezzo pesante distrutto! Veicolo nemico distrutto! Vitolo abbattuto! Wilson distrutto! Mi curo! Piazza una mina! Uso una Claymore! Uso un'esca! Lancio una EMP! Piazza una carica! Flashbang lanciata! Maschere antigas! Granata partita! Molotov lanciata! Prendi questo! Andiamo! Uso una tuta antiradiazioni! Razzo partito! Fumogeno lanciato! Ecco una stimolante! Lancio una stordente! Gas lacrimogeno lanciato! Termite lanciata! Drone EMP in campo! Ricognizione avviata! Di nuovo in perfetta salute! Ecco! Prendete il potere d'arresto! Segnale di inserimento posizionato! Sistema Trophy in uso! C4! EMP! Flashbang! Gas! Gas! Attenzione! Granata! Molotov! Ricognizione nemica! RPG! Samtex! Stordente! Termite! Qui ho trovato qualcosa! Dispositivo disattivato! Dispositivo in posizione! Dispositivo piazzato! Metto il dispositivo! Obiettivo in sicurezza! Ci sono! Obiettivo al sicuro! 10 secondi! 30 secondi! 60 secondi! Siamo nella zona sicura! Occhio ai nemici! Manca ancora qualcuno! Adunata nella zona sicura! Alla zona sicura! C'è molta strada da fare! In marcia! Stazione medica qui! Raggiungiamo quella stazione medica! Ambulanza qui! Equipaggiamento letale qui! Equipaggiamento tattico qui! Grosso calibro qui! Colpi per lanciatore qui! Medio calibro qui! Colpi per fucile a canna liscia qui! Piccolo calibro qui! Accessorio qui! Mirino qui! Lato est! Lato est! In alto! In alto! Livello 1! Livello 2! Livello 3! Livello 4! Livello 5! Laggiù! Laggiù! Nord! Nord! Nord est! Nord est! Nord ovest! Nord ovest! Sud! Sud! Sud est! Sud est! Sud ovest! Sud ovest! Lato ovest! Lato ovest! Quello è mio! Incaggio! Bombardiere! Nemici nell'area! Nemici nell'area! Ottima uccisione! Contatto! Contatto! Contatti multipli! Contatti multipli! RPG avvistato! Cecchino! Contatto! Sono tre! Trappo le nemiche qui! Contatto! Sono due! Blindato pesante nemico! Blindato pesante nemico! Veicolo nemico! Veicolo nemico! EMP giù! EMP giù! Il nemico ha il potere d'arresto! Il nemico ha il potere d'arresto! Segnale di inserimento nemico! Lancio aereo in arrivo! Lancio aereo in arrivo! Approvvigionamento avvistato! Approvvigionamento avvistato! Cannoniera nemica! Cannoniera nemica! Elicottero nemico! Elicottero nemico! Juggernaut! Juggernaut! Ricognitore nemico in volo! Ricognitore nemico in volo! UAV di disturbo nemico! UAV di disturbo nemico! Torretta nemica! Torretta nemica! Torretta scudo nemica! Torretta scudo nemica! Torretta scudo qui! Torretta scudo qui! Carro nemico! Vito il nemico! Vito il nemico! Wilson nemico! Wilson nemico! Sono con te! Sono con te! In movimento! Ecco la nostra zona di lancio! Pronti! Dovremmo lanciarci lì! Qualcuno è passato di qua! È meglio raggrupparsi! Mi serve una corazza! Mi serve un'arma! Mi serve un casco! Mi servono colpi di grosso calibro! Mi servono colpi per lanciatore! Mi servono medicinali! Mi servono colpi di medio calibro! Mi servono pallottole! Mi servono colpi di piccolo calibro! Dispositivo avvistato! Dispositivo avvistato! Corazza qui! Serve a qualcuno? Scorte mediche qui! Scudo antisommossa qui! Una banca! Qui si può depositare! Approvvigionamento! Contiene denaro! Qui ci sono soldi! Qui c'è un venditore se serve! Affermativo! Affermativo! Ignorate quello che ho detto! Confermato! Confermato! Medico! Lasciami qui! Va avanti! Ti aiuto io! Grazie! Fuori tutti! Fuori tutti! Serve qualcuno alla guida! Serve qualcuno alla guida! Ci serve un pilota! Ci serve un pilota! Guido io! Guido io! Io prendo la calibro 50! Io prendo la calibro 50! Blindato pesante qui! Elicottero qui! Veicolo leggero qui! Mi serve un passaggio! Sarò io il pilota! Sarò io il pilota! Farò il passeggero! Farò il passeggero! Fucile d'assalto qui! Arma personalizzata qui! Fucile tattico qui! C'è un lanciatore qui! Mitraglietrice leggera qui! Coltello tattico qui! Qui c'è una pistola! Fucile a canna liscia qui! Mitraglietta qui! Fucile di precisione qui! Ci sono! Ha bisogno di cure mediche! Alleato ucciso! Annullare i soccorsi! Restiamo noi due! Andiamo! Carico il defibrillatore! Copritemi! Ci penso io! Trovate una stazione medica! Sono con te! In discesa! Area pronta per i rinforzi! Sono a terra! Medico! Sono a terra qui! Rieccomi in campo! Ci sono! Vai! Munizioni scarse! Grosso calibro! Mi servono colpi per lanciatore! Medio calibro! Mi servono cartucce! Piccolo calibro! Ricarico! Occhio dove spari! Mi attaccano! Mi sparano! Mi hanno colpito! Bombardiere eliminato! Indietro! Drone distrutto! Cannoniera abbattuta! Elicottero abbattuto! Bersaglio a terra! Due a terra! Sei uccisi! Quattro andati! Juggernaut a terra! UAV di disturbo abbattuto! Torretta andata! Torretta scudo andata! Cecchino a terra! Anche l'ultimo è andato! Squadra eliminata! Carro distrutto! UAV abbattuto! Mezzo pesante distrutto! Veicolo nemico distrutto! Vito l'abbattuto! Wilson distrutto! Ricevuto! Ci pensiamo noi! Ricevuto capo! Ti ascoltiamo! Ricevuto! Passo e chiudo! Mi curo! Piazzo una mina! Uso una Claymore! Uso un'esca! Lancio una EMP! Piazzo una carica! Flashbang lanciata! Maschere antigas! Granata partita! Molotov lanciata! Prendi questo! Andiamo! Uso una tuta antiradiazioni! Razzo partito! Fumogeno lanciato! Ecco una stimolante! Lancio una stordente! Gas lacrimogeno lanciato! Termite lanciata! Divento un'ombra! Drone EMP in campo! Ricognizione avviata! Di nuovo in perfetta salute! Ecco! Prendete il potere d'arresto! Segnale di inserimento posizionato! Sistema Trophy in uso! C4! EMP! Flashbang! Gas! Gas! Attenzione! Granata! Molotov! Ricognizione nemica! RPG! Samtex! Stordente! Termite! Verifica del codice! Via al lancio! Versaglio indicato! Procedere! Serve supporto aereo! Juggernauto operativo! Richiedo ricognizione aerea! Lanciare UAV di disturbo! Torretta schierata! Torretta scudo schierata! Wilson in campo! Qui ho trovato qualcosa! Dispositivo disattivato! Dispositivo in posizione! Dispositivo piazzato! Metto il dispositivo! Obiettivo in sicurezza! Ci sono! Obiettivo al sicuro! 10 secondi! 30 secondi! 60 secondi! Siamo nella zona sicura! Occhio ai nemici! Manca ancora qualcuno! Adunata nella zona sicura! Alla zona sicura! C'è molta strada da fare! In marcia! Stazione medica qui! Raggiungiamo quella stazione medica! Ambulanza qui! Equipaggiamento letale qui! Equipaggiamento tattico qui! Grosso calibro qui! Colpi per lanciatore qui! Medio calibro qui! Colpi per fucile a canna liscia qui! Piccolo calibro qui! Accessorio qui! Mirino qui! Lato est! In alto! Livello 1, livello 2, livello 3, livello 4, livello 5! Laggiù! Nord! Nord est! Nord ovest! Sud! Sud est! Sud ovest! Lato ovest! Quello è mio! Ingaggio! Bombardiere! Nemici nell'area! Ottima uccisione! Contatto! Contatti multipli! RPG avvistato! Cecchino! Contatto! Sono tre! Trappo le nemiche qui! Contatto! Sono due! Blindato pesante nemico! Veicolo nemico! EMP! Giù! Il nemico ha il potere d'arresto! Segnale di inserimento nemico! Lancio aereo in arrivo! Approvvigionamento avvistato! Cannoniera nemica! Elicottero nemico! Giù! Garnaut! Ricognitore nemico in volo! UAV di disturbo nemico! Torretta nemica! Torretta scudo nemica! Torretta scudo qui! Carro nemico! Vito il nemico! Wilson nemico! Sono con te! In movimento! Ecco la nostra zona di lancio! Pronti! Dovremmo lanciarci lì! Qualcuno è passato di qua! È meglio raggrupparsi! Mi serve una corazza! Mi serve un'arma! Mi serve un casco! Mi servono colpi di grosso calibro! Mi servono colpi per lanciatore! Mi servono medicinali! Mi servono colpi di medio calibro! Mi servono pallottole! Mi servono colpi di piccolo calibro! Dispositivo avvistato! Corazza qui! Serve a qualcuno? Scorte mediche qui! Scudo antisommossa qui! Una banca! Qui si può depositare! Approvvigionamento! Contiene denaro! Qui ci sono soldi! Qui c'è un venditore se serve! Affermativo! Ignorate quello che ho detto! Confermato! Medico! Lasciami qui! Va avanti! Ti aiuto io! Grazie! Fuori tutti! Serve qualcuno alla guida! Ci serve un pilota! Guido io! Io prendo la calibro 50! Blindato pesante qui! Elicottero qui! Veicolo leggero qui! Mi serve un passaggio! Sarò io il pilota! Farò il passeggero! Fucile d'assalto qui! Arma personalizzata qui! Fucile tattico qui! C'è un lanciatore qui! Mitragliettrice leggera qui! Coltello tattico qui! Qui c'è una pistola! Fucile a canna liscia qui! Mitraglietta qui! Fucile di precisione qui! Ci sono! Ha bisogno di cure mediche! Alleato ucciso! Annullare i soccorsi! Restiamo noi due! Andiamo! Carico il defibrillatore! Copritemi! Ci penso io! Trovate una stazione medica! In discesa! Aria pronta per i rinforzi! Ho già di meglio! Non ho spazio! Sono a terra! Medico! Sono a terra qui! Rieccomi in campo! Ci sono! Vai!